Musica Amici Bianco Blu, benvenuti a Rete55 e benvenuti a Bianco Blu, la nostra trasmissione. Ciao Andrea Macchi, Andrea Scalvi e Alessandro Bianchi. Non so da dove partire, parto solo dal fatto che abbiamo una propatria incredibile, ragazzi. Sì, è una propatria veramente che sta stupendo, uno a uno domenica scorsa a Vicenza, con tanto tanto rammare, con pareggio il Vicenza, più casuale che meritato, concedimi questa nota, all'84esimo, peccato perché per almeno un tempo, se non un'ora, c'è stata una grande propatria, poi forse un po' un deficit fisico, comunque ha speso tanto la squadra, ha favorito il rientro del Vicenza che, come hai detto, ha pareggiato solo l'84esimo. Ma secondo me il rientro del Vicenza è stato che il loro allenatore è stato bravo a togliere quelle vecchie ciabatte che ormai giocano, vecchie glorie, perché... Tipo Giacomelli. Tipo Giacomelli. Ma non me ne abbia Giacomelli, però non puoi prendertela tutti i giorni, tutte le partite... Da non confondere con il nostro Giacomelli. No, assolutamente, il nostro Giacomelli rimane un eterno Giacomelli. Lo salutiamo, lo salutiamo. Ciao Giacomelli, grande Giacomelli. No, il nostro, cioè il nostro è il numero uno, ma questo qui è una vecchia gloria ormai. Sarà anche una bandiera del Vicenza perché già... Ma basta prendere con gli arbitri, lasciali vivere questi poveri ragazzi. Hai fatto tutta la partita a rompergli le scatole, basta. E quando hai poco da dire sul campo, anche perché giocava a sinistra, aveva di fronte Perotti e Sportelli, diciamo che... Non l'ha mai vista, ma il problema è che ha rotto le scatole tutta la partita. Alla lunga, se il loro allenatore non l'avesse tolto, noi avevamo vinto tranquilli in carrozza. Vabbè, pace. Ma noi siamo felici perché ragazzi siamo una squadra che gioca, guarda qua che immagine. Perotti che esulta, di sinistro che non è neanche il suo piede, Più che gliela rimette in mezzo. Ragazzi, la Pro al primo tempo ha dato, secondo me, una lezione di calcio. Voi eravate là presenti, il pubblico cosa faceva? Beh, direi che entrambe le tifoserie ha la grandissima, Vicenza lo sappiamo largamente, la migliore media spettatori del girone. Ma anche la Pro si è presentata con un'ottima tifoseria, gli Ultras in gran numero, chiassosissimi. Anche noi eravamo nel settore ospiti veramente colorato, ci siamo entusiasmati ed emozionati parecchio. Chiudo dicendo, è una Pro così grande da uscire con rammarico per un pareggio a Vicenza. Direi che è la sintesi migliore, una grande Pro nel primo tempo veramente sontuosa. La lontana è venuto fuori anche il Vicenza, che comunque è una grandissima squadra. Quindi un bel pareggio che ci rende sempre più bene. Non dimentichiamo che il Vicenza in settimana ha recuperato con la Juventus e ha anche vinto. Quindi il nostro pareggio non è da sottovalutare. È doppietta di Ferrari che già aveva segnato contro. Ragazzi ha già fatto 7-8 gol questo. È un giocatore che probabilmente costa come metà della propria. Eh vabbè. Io lo sottolineo sempre, qualcuno fa finta di non capire. Ed è da segnalare la buona prestazione della difesa contro il Vicenza che era il miglior attacco del girone. Che è il miglior attacco del girone. Aveva fatto 10 reti in due partite in casa. La propria te ne ha concessa solo una, tra l'altro. Abbastanza fortuita. Sì, perché poteva magari venire su un tiro che è parato dal nostro portiere. Però vabbè. E volevo citare Boffelli che nel ruolo di Lombardoni, cioè come centrale, se la sta scavando molto bene. Boffelli secondo me non è stato mai valutato per quello che è, ma è un bel giocatorino. Io non lo scalterei. Noi lo vediamo meglio Lombardoni, Boffelli come centrale, sinistro, marcatore. Certo, assolutamente. Però sta facendo il suo anche nel ruolo di centrale. L'abbiamo già nominato settimana scorsa e Saporetti sta facendo un gran campionato. Purtroppo però Saporetti sembra che domenica... Sembra qualche leggero acciacco in visto della partita di domenica contro il Trento, ore 17.30. Lo ricordiamo, visto che si parla di anticipi, mica anticipi, non è stato anticipato proprio a Trento, confermato alle 17.30. Mi unisco presentando un nuovo Tigrottino che uscirà proprio per presentare la sfida con il giallo-blu. Scusa Andrea, ma chi ci sarà mai sulla copertina del Tigrottino? Visto che... no, beh, lo merita. Esatto, già lo metterei sempre in copertina perché secondo me è sontuoso. Però stavolta diciamo che è stata dura prendere il sonno dopo la vittoria con la Provercelli. Abbiamo proprio dedicato ai sogni questa nuova bella copertina dedicata a Nicco per l'impresa contro la Provercelli da sogno sia contro le bianche casacche sia contro i bianco rossi al Vicenza. Vi invitiamo a leggerlo perché è un numero ricchissimo di contenuti, tante curiosità. Abbiamo puntato la lente di ingrandimento su tante situazioni, anche un po' chiarendo, facendo chiarezza sulle prossime impegni della Propatria perché inizia a essere veramente intenso il calendario. Ecco, abbiamo fatto anche un riassunto di quali sono i calciatori in prestito e quali sono i calciatori di proprietà perché spesso allo stadio si parla soprattutto dei nostri giocatori più giovani. Se sono nostri o se sono in prestito, un'anticipazione, Ndreka è nostro, quindi l'esterno sinistro non è in prestito come tanti pensano, ma è nostro, quindi è un grande tesseramento. Mentre Perotti, che è l'altro giovane in questo momento in rampa di lancio, è in prestito dalla Juventus, in quanto l'anno scorso aveva giocato in eccellenza, un ottimo campionato, il cartellino è stato acquistato dalla Juventus e l'ha girato in prestito alla Propatria. Beh, però il fatto che sia venuto qui è perché sanno che società è la Propatria, sanno che può far crescere i giovani e Perotti è un'altra grande dimostrazione. Secondo me se riesce a crescere bene può dare delle soddisfazioni, chiaramente a noi ce le darà quest'anno, poi andrà dove andrà, ma la speranza è che secondo me può crescere. Deve fare almeno due anni a busto. Deve fare due anni per crescere e essere perfetto. E poi tra l'altro nel post partita è stato intervistato, lo abbiamo riportato proprio nel Tigirutino con una nuova sezione dedicata alla dichiarazione della settimana, Perotti è un 2003, sembrava di sentire parlare un 93 forse, un'esperienza veramente da uomo fatto e finito, quindi ben venga. L'anno scorso Alchisola ha vinto il campionato d'eccellenza, quindi vincere a tutti i livelli è difficile. È sempre difficile, perfetto. Ed è venuto in una squadra che oggi è considerata abbastanza nella C, vincente per tutte le varie proporzioni, budget, non budget. Sì, sì, non è solo la vittoria sul campo sportivo, ma su tutte le varie situazioni. E una vittoria probabilmente ci sarà anche sugli spalti domenica prossima. Stavi già parlando del Trento, ecco, ti agganciamo a quello che sarà domenica, lo Speroni, perché si preannuncia un bello Speroni. Sì, esatto, la propatria cresce sotto tutti i punti di vista, abbiamo detto più volte che dovrebbe crescere anche come numeri di spettatori, allora eccoci qua. Consigliamo a chi andrà nei popolari coperti distinti magari di arrivare un pochino prima, perché ci sarà, se non il tutto esaurito, nei popolari coperti poco ci manca. Arriverà un sacco, ci saranno un sacco di ragazzi del settore giovanile, con i loro accompagnatori, genitori, eccetera, per creare tutta una macchia bianco-blu come merita questa squadra, questa società. Tanto entusiasmo per una squadra che vuole continuare a stupire e dovrà anche, speriamo, continuere a farlo anche in questa settimana intensa. Partita col Trento difficilissima, partita col Trento difficilissima secondo me, perché loro hanno cambiato allenatore. Han cambiato allenatore, non c'è più di rottore sportivo. Non solo il Trento, il Trento ha cambiato allenatore, la Triestina aveva fatto una squadra veramente importante, ha fatto Romagna, una squadra era stata affidata a un allenatore con zero esperienza, adesso sono andati a riprendere Pavanel, che non sarà vincente ma è un allenatore che spesso ci arriva vicino. E poi sono comunque, ci sono allenatori che con alcune piazze si trovano d'amore e d'accordo, la situazione di Pavanel con Trieste è questa, perché nei primissimi anni, dopo che erano tornati in Serie C, aveva sfiorato la Serie B tre anni fa, quando poi l'ha persa contro il Pisa, mentre invece a Trento è arrivato Tedino, ma non è ancora arrivato il nuovo direttore sportivo, il Trento è esonerato. Sia l'allenatore che il direttore sportivo ha scelto sulla guida tecnica, non quella di direttore. Queste cose mi lasciano perplesso, uno prende l'allenatore, poi un direttore sportivo che magari non ama quell'allenatore. Ma diciamo che Tedino è un personaggio un po' particolare, per la Serie C può essere un personaggio molto interessante, per magari categorie superiori, che non è il nostro caso, non ci interessa, però per la Serie C può essere un personaggio importante. Il Trento ha una rosa, poi lo vedremo nella seconda parte, ha una rosa devastante, soprattutto davanti. Però vabbè ragazzi, la cosa bella è parlare di noi, parlare di noi di come stiamo parlando. Ne stiamo parlando in tanti, la Propatria sta facendo in queste prime partite delle cose importanti. Noi ne siamo felici, poi a noi quello che interessa è sempre la Propatria, che sia prima, ultima o no, a noi interessa. Meglio prima. Però quando li vedi lì ragazzi, è bello. Vabbè, ci fermiamo un attimo, un po' di pubblicità e poi ritorneremo con la seconda parte, dove parleremo del Trento, parleremo di tante altre cose, per Golettese, perché avremo il turno infrasettimanale e un altro bel video che ci sarà da vedere. Tra poco. Ritami studio per la seconda parte di Bianco Blu, una puntata molto felice per noi, perché la classifica ci arride, ma come detto sempre, anche se a noi non ci arride, ma noi parlare di Bianco Blu ci fa felici. Ci fa felici, però al tempo stesso siamo preoccupati, come ha detto prima Andrea, perché domenica prossima, ore 17.30, lo Speroni contro il Trento, ci attende una di quelle partite più che tra bocchetto. Difficile, sì, perché loro hanno cambiato allenatore, cambiato allenatore della società in subbuglio, ma hanno una grande squadra. Allora Andrea, a te la snocciolatura dei giocatori. Sì, perché il Trento ha solo cinque punti in classifica e dopo la bella vittoria, la seconda giornata contro la Provercelli, ha fatto solo pareggio e sconfitte e nell'ultima partita ha perso 2-0 in casa contro Renate. E questa sconfitta è costata alla panchina al vecchio allenatore Danna e adesso in settimana è stato preso Tedino. Il Trento quindi è molto sotto le proprie aspettative, in quanto quest'anno aveva rinforzato la squadra e aveva come obiettivi play-off, invece si trova in piena zona play-out. Hanno la terza peggiore difesa del campionato, con 12 gol subiti. Nonostante la presenza di Trainotti. Infatti, amico di Alessandro. Ah, allora vediamo questa immagine perché Ale ci tiene a questa immagine. Vediamo, eccola lì. Ci ha colpito, spulciando tra i social, questa immagine del loro capitano storico. Andrea Trainotti, nativo di Rovereto, ha uno dei contratti più lunghi, ma una durata mai vista sinceramente in Serie C. Si vedono tanti giocatori che rimangono a lungo in una società, ma allungando di volta in volta al proprio contratto. Invece per lui no, per il capitano storico il Trento ha preparato un contratto quinquennale che è stato presentato qualche settimana fa con una maglia speciale. Quindi fino al 2027, non so che altri giocatori abbiano un contratto così lungo, il suo capitano è sotto contratto con il Trento, vedremo, potrebbe partire dall'inizio dopo domani. Trento, che dovrebbe giocare con il 4-3-3, in porta abbiamo un figlio d'arte, cioè il figlio di Marchigiani, che è il portiere titolare del Trento. In difesa abbiamo Trainotti, come difensore centrale, capitano storico, mentre a centrocampo abbiamo il proprio regista che è Cittadino. Cittadino, giocatore di qualità, titolare l'anno scorso del Gubbio, e quest'anno è stato comprato proprio per fare quel salto di qualità che cercava la società. Ma il punto forte del Trento è l'attacco. Infatti nel trio d'attacco gioca sicuramente Belcastro, come trequartista o attaccante esterno. E poi abbiamo i due grandi nomi, Brighenti e Boccalonna, che sono giocatori che non hanno bisogno di presentazioni. Brighenti era la Juventus under 23, e purtroppo ci ha fatto anche il famoso gol ai play-off che ci hanno eliminato. e Boccalonna, invece, un giocatore di grande qualità, che ha portato ai tempi il Portogruaro in Serie B. Ma il Brighenti aveva vinto col Monza che è andato in Serie B, giusto? Sì, 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 anche con la Cremonese. Cremonese. Però di solito ci erano dei dubbi, però ovviamente avendo cambiato allenatore può essere tutto, magari sto dicendo le idiozie, spesso non giocavano in coppia dall'inizio. Secondo me, poi magari domenica fanno... Però non li vedo benissimo in coppia. Sì, come caratteristiche. Non sono tanto complementari. Però sono due giocatori di alta categoria. Infatti col vecchio mister giocavano Belcastro, uno dei due come punta centrale, e Ianesi come altro attaccante esterno. Ianesi che è un giocatore giovane, brevilinio, molto forte nel dribbling, che arriva dalla primavera dell'Udinese e che è la classica ala esterna che potrebbe mettere potenzialmente in difficoltà i nostri difensori. Conoscendo Tedino parte con loro due. Dici? Sarebbe anche Pasquato, che è un altro giocatore molto forte. Nelle ultime partite però era out. Vedremo se si trattava di un problema fisico. O un problema con l'allenatore. Adesso vedremo perché domenica c'erano in panchina pochissimi giocatori. Vediamo se era un problema con l'allenatore o cosa, perché se si presentano tutti abili e arruolati, uno più uno fa due. E poi tra l'altro il Trento in mediana aveva anche l'ex Varese Usugi che però con Renato è stato espulso, quindi salterà la trasferta di busto per squalifico. Un altro giocatore che è in panchina, Saporetti nel Trento, che non è parente del nostro Saporetti. Stavo già preoccupato. Saporetti la punta, quello che giocava in Ravenna. Lui è bravo. Sì, volevamo provare a ipotizzare un 11 titolare. Probabilmente sull'esterno destro rivedremo Perotti, che si sta veramente ben comportando. Vezzoni potrebbe avere qualche problemino fisico, così come Lombardoni, che è fuori dalla trasferta di Padova e che potrebbe saltare anche il Trento. Magari andrà comunque in distinta. Staremo a vedere dopo domani. Quindi trittico difensivo, ipotizziamo Sportelli, Boffelli, Molinari. E mentre invece il resto dell'11 lo conosciamo bene. Anche perché poi bisogna pensare a mercoledì. Perché mercoledì si è a Crema. Esatto, trasferta di Crema di una squadra, tra virgolette, pazza. Strano. Sì, appena cambiato allenatore e di colpo ha fatto 5 gol al Padova. qualcosa di incredibile. Non so da quanto il Padova non subiva 5 reti. E staremo a vedere appreso, tra l'altro, se non sbaglio il figlio del mitico Villa, capitano del Bologna. Bologna, che aveva iniziato nell'Orceana, se non sbaglio. Proprio uno degli emblemi del calcio di una volta, direi. Per gol e tesi dove non gioca più Bortoluz. Ah. Che fino all'anno scorso era tesserato, anche se poi non aveva mai giocato, ultimamente, nelle ultime partite. Quest'anno, invece, è in Serie D al Villavalle, quindi non è più tesserato per la per gol e tesi. Tra l'altro, Mauro, a proposito delle iniziative di domenica, per sempre testimoniare la crescita costante di questa propatria, per chi sarà nei distinti coperti, insieme ai nostri tanti giovani, della primavera, Under 13, Under 4 di tutte le squadre Under. Ci saranno anche vari stand, Dental Pro, Sky, Remax, che hanno voluto far sentire la propria presenza, proprio allo stadio, dal vivo, con uno stand vero e proprio. Direi che non è affatto male. Ci colleghiamo a un'altra presenza importante, in quel di Busto, nel cuore della città. Sui social, lo avrete visto, ormai della propatria, se non l'avete visto, andatelo a vedere, perché ne vale davvero la pena. il video, tra virgolette, spot dell'inaugurazione di SR. Che è il nostro, appunto, Merchandise. Esatto. Grande storico negozio di Busto, SR, e dove troverete tutto il merchandise pro patria. Non ancora al completo, però, perché arriveranno tante belle novità, quindi fateci un giro, perché merita veramente avere... Vale la pena, e continueranno ad arrivare prodotti. Per il momento sono arrivati alla presentazione del negozio, come avete visto nel video, Sportelli, Ghioldi, e la nostra mascotta ufficiale, come sempre, in presenza di Emanuele Gambertogli, ovvero il proprio padre reputativo della mascotta di tutti questi progetti. Bene. Mauro, finiamo la formazione, dicendo che il centrocampo è confermato contro il Trento titolare nostro. Penso proprio di sì, magari potrebbe esserci qualche sorpresina mercoledì nell'infrasettimanale a Crema, perché no Bertoni, che non è ancora a postissimo. Vediamo, vediamo anche, magari c'è qualche sorpresa positiva, qualche rientro prima dei tempi, e soprattutto davanti, magari, Chakir potrebbe avere anche un po' più di spazio. Ecco, perché secondo me è un bel, sarebbe bello vederlo un pochino di più. Questo non la toglie a Stanzani, a Pio, a Castelli, perché per noi sono tutti sullo stesso livello. Però, noi che non l'abbiamo ancora visto bene, ma mi sembra che ha quel, innanzitutto quella cattiveria da tiglotto, perché secondo me ha quella, e poi, oh ragazzi. Secondo me, cioè il mister vede prima punta, Pio o Castelli. E se non vedere Pio sarebbe difficile. Certo, no, però nel senso, in questo momento Chakir è l'alternativa a Stanzani come seconda punta, quindi la prima punta del ballottaggio è Pio o Castelli, seconda punta Stanzani o Chakir. Perché comunque Pio, quando è andato sulla fascia sinistra, almenti e l'ha messa dietro. Il giocatore è potente. Pio è un giocatore, è chiaro che, insomma, Pio. Un'ultima cosa al volo, settimana scorsa, in occasione, diciamo, ricorreva un anniversario relativo a Maestrelli, storico allenatore della Lazio, diciamo, del primo scudetto. Abbiamo anche il video. C'è il video. Stefano, se riesci a mandarci il video che dura quei 30 secondi, ce la facciamo. Il figlio di Re Cecconi ci ha salutati. Ciao ragazzi, un saluto a tutti i sostenitori della Pro Patria e oggi in Campidoglio si è risposta a questa manifestazione per i cento anni di Tommaso Maestrelli. È stata una risposta molto importante del popolo della Lazio. Io devo ringraziare comunque anche la Pro Patria e i suoi tifosi perché papà ha incominciato a pensare di diventare un grande calciatore proprio a Busco. Per cui un grazie e un abbraccio a tutto il movimento della Pro Patria. Uno si emoziona a vedere queste cose, almeno io sono fatto così, poi... Fanno capire appunto le radici, le profondità di un movimento, come ha ben detto Re Cecconi, che è la Pro Patria, non è solo una squadra di calci. Perfetto, siamo arrivati in fondo. Grazie Andrea Manchi, grazie Andrea Scaldi, Alessandro Bianchi. Grazie Mauro, se posso chiudere, chi vuole venire a crema come Andrea, è assolutamente benvenuto. Ah, caspita, la foto ce l'abbiamo, ce l'abbiamo su tutti i canali social, non dimentichiamolo, non dimentichiamo Rete55, canale 88, ecco la foto, oppure sui nostri canali social, Bianco Blu Rete55. L'appuntamento è tra sette giorni, ma soprattutto domenica, contro il T, il Trento. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti.